Michele Serra, che cosa rappresentava per te Alberto Sordi? Ma quello che ha rappresentato per tutti, insomma, una ragione di allegria fondamentalmente e di compagnia, insomma, come i suoi grandissimi attori riescono a fare. Quando purtroppo muore un personaggio di questa dimensione, secondo te, ecco, cosa succede proprio negli spiriti di ognuno di noi? Ma succede che ci si risente di nuovo comunità, la basilica, la piazza piena di gente, c'è un senso di appartenenza e di solidarietà, ecco, le persone come Sordi sono importanti per quello, perché trasformano in una specie di famigliona, almeno per qualche minuto, per qualche ora, la società scassata che siamo, ecco, quindi ci si ritrova, ecco. C'è un film, una pellicola alla quale sei particolarmente legato? Una vita difficile, sicuramente, e lui ha avuto anche dei toni drammatici straordinari, poi, insomma, grande comico e anche grande maschera drammatica, e non ha fatto poi sempre queste parti di vigliaccone, ignobile, opportunista, ha fatto anche parti nobilissimi come quella di una vita difficile.